Questa mattina il Censis ha pubblicato il consueto rapporto annuale, la fotografia che ne viene fuori è una magra consolazione Alessandro, perché l'anno scorso si parlava di un paese che si stava impoverendo, che stava retrogredendo anche da un punto di vista non solo economico, ma anche delle distanze sociali. Quest'anno la magra consolazione è che siamo diventati un paese che è definito nel limbo, che non cammina, è fermo, dove non si riescono a prendere decisioni, dove l'ascensore sociale è bloccato, un paese sospeso. Alessandro, secondo te quali sono le cause? Le cause sono la distanza che esiste tra i processi politici e i processi sociali, la politica ha una sua velocità ma non incide poi nella società con la stessa rapidità con cui alcuni meccanismi politici cambiano, un esempio, abbiamo abolito le province, si va in Parlamento e si abolisce le province con un voto, poi scopri che le province costano ancora tanto, il personale sta tutto lì. La metafora di Derita è come sempre brillante e intelligente, il limbo è la sede di chi non ha visto Cristo, quindi la potenza salvifica e messianica di Renzi viene smentita da questa metafora. La rivoluzione renziana, ancorché ha prodotto sul terreno delle riforme alcuni passaggi importanti, non ha inciso sulla struttura sociale e economica del paese. Economica perché, come abbiamo visto, c'è una ripartenza del PIL come effetto di un processo che attraversa tutta l'Europa, ma siamo sempre su percentuali molto limitati rispetto a quello che si è perso dal 2007 ad oggi e comunque a due velocità, perché il mezzogiorno per esempio sta sempre molti punti sotto rispetto al nord. Sul terreno sociale perché i processi di rottura corporativa, di eliminazione di tutti gli ostacoli allo sviluppo e alla velocità delle relazioni di un paese che deve assumere un nuovo piglio e non si sono prodotti, ma non si producono in un giorno. Perché la burocrazia sfissiante che intermedia tutti i processi, la giustizia che anziché essere un fattore di chiarimento della democrazia è un fattore spesso di inquinamento e di paralisi, il ruolo dei sindacati che è un ruolo che spesso anziché agevolare i processi, struttura, difese, ad oltranza di posizioni che sono antistoriche. Tutti questi fattori sono ancora tutti lì e non si cancellano con un colpo di spugna. Sì, ne viene fuori anche un paese delle grandi divisioni. Noi sul mattino ci occupiamo sovente, quasi quotidianamente delle differenze tra il nord e il sud. Oggi il nostro comune editoriale, il nostro Giuseppe Berta racconta come oramai non è neanche più una differenza tra il nord e il sud, ma il centro si è avvicinato, è diventato un tutt'uno con il nord, quindi il sud è separato, ma è anche, soprattutto, si sta andando sempre di più verso uno scontro generazionale. Sto parlando dei giovani, quindi gli argomenti delle pensioni, dell'accesso al lavoro. Di questa grande massa di ragazzi, di 35 anni, 36 anni, 37 anni che vivono nel precariato, che stanno fuori dal giardino. E questa, secondo me, hai centrato nella questione con cui si può leggere lo stallo del paese. Lo racconta Oscar Giarnino, il tradimento del patto fra le generazioni. È un paese per vecchi, in un paese che non riconosce ai figli la possibilità di coltivare aspettative pari a quelle che i padri hanno avuto. E questa è una cosa ormai visibile da 10-15 anni. E purtroppo, ecco, qui tu vedi l'irrilevanza di alcune decisioni politiche. Questo squilibrio fra figli e genitori, per cui i figli non avranno la pensione di genitori, non possono avere la stabilità economica di genitori, non possono progettare il futuro come l'hanno fatto i loro genitori. Non si è ridotta, è cresciuta. Ed è cresciuta a dispetto di alcune misure che pure sono intervenute sulla struttura sociale. Penso il Jobs Act. Il Jobs Act ha introdotto nel nostro paese delle riforme importantissime, che ci ha messo alla pari con altre democrazie europee, con grandissimo ritardo, perché se ne era parlato nel 2001, l'ha fatta Renzi nel 2015. E se ti interrompo, scusi, però, portando a una nuova dicotomia, perché il Jobs Act vale per i nuovi assunti, non vale per i vecchi. Si sta discutendo in questi giorni, vale per il settore privato, non vale invece, sostiene il governo, per il settore pubblico. E' proprio questo il punto, vedi? Però da qualche parte bisognava cominciare. Bisognava cominciare, infatti nessuno oggi di buonsenso e di onestà intellettuale, a parte qualche sindacalista d'antan direbbe che il Jobs Act è stata una misura sbagliata. Il problema però è che il Jobs Act incide sui nuovi assunti, quindi su coloro che verranno. Ma la platea dei 15 milioni di lavoratori dipendenti già presenti nel nostro paese non è toccata da questa misura. Quindi si crea ancora una volta un doppio binario tra padri e figli, che sì, fra 15 anni, forse quando tutti i padri saranno in pensione, avremmo disegnato un paese nuovo, però passeranno altri 15 anni. Quindi questo ti dà il senso di quello che dicevamo prima, la distanza che c'è tra il livello decisionale della politica e l'impatto sociale di alcune decisioni. La scuola è stata distrutta in 40 anni di appiattimento, consociativismo, rinuncia al merito, rinuncia alle carriere, rinuncia al controllo ispettivo, siamo l'unica scuola che non ha ispettori. Questo dai decreti delegati del 74 ad oggi sono passati 40 anni in cui la scuola è stata consegnata allo stallo, alla paralisi e oggi interviene la riforma della buona scuola di Renzi, con una serie di misure peraltro molto anacquate, ma che comunque alcune introducono finalmente misure che riportano il merito, la gerarchia funzionale, alcuni principi di qualificazione della qualità dell'offerta formativa. Ma questi principi cominceranno a incidere sulla nostra struttura sociale fra 10, 15, 20 anni. Per intanto in 40 anni l'abbiamo distrutta e non si ricostruisce in un anno. È evidente che quando vai a misurare tra il 2014 e il 2015 l'effetto di alcuni processi politici ti accorgi che questi processi politici non hanno toccato la sostanza del Paese. Forse non hanno neanche avuto il tempo di toccarlo. Non hanno avuto il tempo, ma poi occorrerebbe ovviamente, quando un Paese è rimasto fermo tanto tempo, il riformismo purtroppo, che è l'unica però modo che conosciamo per migliorare un Paese, perché le rivoluzioni non servono a nulla, ma il riformismo denuncia tragicamente che non si può recuperare in un anno quello che si è perduto in 40 anni. Un'ultima considerazione, non ti sembra che in questo Paese fermo le giovani generazioni comunque si siano anche un po' adagiate. C'è chi aveva parlato di bamboccioni, che non abbiano più quella voglia che invece c'era in passato, che comunque abbiano goduto di un Paese che, lo dimostra anche il census, vive con la rendita, che si accontentano, che non hanno voglia di fare quella cosa che molti dicono che invece bisognerebbe fare, bisognerebbe uccidere il padre per cercare di cambiare le cose. Le giovani generazioni sono variegate, i migliori se ne vanno e questo è un dato purtroppo, e quindi noi abbiamo un saldo fra chi esce e chi entra, soprattutto di cervelli che è un saldo sempre a perdere ed è crescente a perdere. Ci sono Paesi del Nord Europa che sono la meta privilegiata dei nostri giovani che spesso non torneranno. Poi gli altri sono ovviamente condizionati dal clima che vive il Paese, quindi se si vive di rendita dei padri è chiaro che i figli si strutturano su questa situazione, questo indubbiamente. L'appiattimento scolastico non ha agevolato, la formazione è scadente in questo Paese, soprattutto in periferia, soprattutto nelle province, quindi è evidente che tutti questi processi incidono sui destini di una generazione. Però non si può gettarla su un terreno marale, i nostri giovani sono bamboccioni o non sono bamboccioni, o sono egoisti o non sono egoisti. Il Paese non è egoista, l'egoismo è una molla individuale, che è un dato strutturale, però va canalizzata dentro occasioni politiche e la solidarietà in senso civile è la possibilità di far convogliare più egoismi in un progetto e qui mancano evidentemente queste capacità di declinare l'energia individuale in progetti complessivi dove le singole individualità giochino sinergicamente. Questo manca nella politica, manca non solo nella politica istituzionale delle istituzioni, manca anche nella politica dei corpi intermedi perché le strutture dei corpi intermedi, le associazioni professionali di categoria, gli industriali, i sindacati, si sono tutti corporativizzati e quindi le decisioni, più che essere la sintesi trasformativa dei singoli egoismi, sono invece un ombrello quasi di welfare ai singoli egoismi per tutelarli in un patto a perdere. Guardiamo sul lavoro le scelte che fanno i sindacati, che fa la signora Camusso che è venuta a trovarci ieri e che racconta il nuovo con l'essico del vecchio e che propone una patrimoniale come la forma di ridistribuzione della ricchezza di questo paese, ignorando che l'unica patrimoniale che è stata introdotta in Italia dal governo Monti, che era l'Imu, ha depresso il mercato, ha distrutto il ceto medio perché chi aveva una casa che valeva 100 oggi c'è una casa che vale 50 e quindi di quale patrimoniale parla? Redistribuire la ricchezza impoverendo chi qualcosa ha è un modo di mortificare la possibilità di sviluppo di un paese, purtroppo un tratto ideologico presente nella cultura delle classi dirigenti di questo paese e soprattutto delle classi dirigenti di sinistra, ma non solo, è quello che ci sta penalizzando tuttora e che rischia di essere un elemento frenante. Certo, perché tutto si poteva dire a Monti fuori che fosse di sinistra, perché Monti ha una cultura diversa, una cultura più tecnocratica, una cultura che cresce negli ambiti della Bocconi. Cresce in un regime liberale, governa un paese che si trova in una situazione drammatica e fa delle scelte di rigore che però precedono le riforme e quindi poi di fatto il governo Monti si ferma come un'incompiuta sul rimettere a posto i conti che erano effettivamente fuori controllo, però gli effetti di quella austerity li stiamo ancora pagando e le patrimoniali concepite in un paese dove l'edilizia e il mattone sono stati storicamente un fattore di sviluppo hanno prodotto una depressione drammatica. L'altro elemento terribile di quella stagione è stata la demonizzazione del benessere e del lusso, con una logica ideologica quasi moralistica, per cui un paese che vive anche nella sua capacità di capitalizzare il suo contenuto estetico ne ha subito un grandissimo danno nella riduzione dei consumi, nella capacità di esportare questa ricchezza che è un frutto della nostra cultura. Insomma, però questo è un'altra storia, di certo oggi continuano a esserci fattori frenanti dentro la cultura del paese con un tratto tipicamente ideologico, se una riforma anziché farsi in tre mesi si fa in questo paese in un anno e arriva al traguardo azzoppata, la riforma della scuola è emblematica, è evidente che poi non ci si può stupire che dopo un anno non produca gli effetti che deve produrre, lo stesso il Jobs Act, se in questo paese avessimo stabilito di fare subito le tutele crescenti per chi già è al lavoro, rimettere in discussione i diritti acquisiti, perché i diritti acquisiti sono una grandissima menzogna sul destino delle generazioni, perché i diritti acquisiti di carattere economico non hanno fondamento costituzionale, si fondano su una condizione temporanea del benessere e le nuove generazioni sono esclusi da questo patto con i diritti acquisiti, quindi occorrerebbe rimetterli in discussione, si fa una riforma del lavoro, vale per tutti, ovviamente prevedendo delle situazioni di compensazione per i più deboli, invece no, noi facciamo una riforma del lavoro per i figli che ancora devono essere assunti, perché sono gli unici che non si possono opporre ad essa e ci teniamo i nostri bravi privilegi, poi ci stupiamo che la riforma del lavoro ci ha dato soltanto un risultato superficiale e congiunturale e non è diventata la molla trasformativa per cambiare il Paese. Grazie Alessandro, vedremo il prossimo anno che cosa ci dirà il Censis, noi siamo realisti e ottimisti, speriamo che il quadro migliori. Grazie. A posto.